... Simone, come è arrivata la qualificazione, ci avete creduto forse di più del secondo set nel primo, ma anche di Cappello alla Lute che vi ha concesso il pisto, di ancora il primo tanzale, se sono dopo per la città. No, ce ne abbiamo creduto sempre, sia il primo, il secondo set e anche dopo, perché anche quando ormai la qualificazione era compromessa, ci abbiamo provato tutti insieme, anche chi è entrato dopo, sono orgoglioso della squadra, la Lube ha giocato meglio, insomma non si può dire niente, noi non abbiamo neanche giocato male secondo me, perché sia nel primo o nel secondo set abbiamo avuto le occasioni, il secondo è finito 22-23, non mi ricordo, sono stati bravi loro, hanno concesso veramente poco in ricezione, hanno portato una partita impressionante, hanno tutte le ricezioni perfette, un ballo in testa, un colore difficile, bravi loro, si fanno complimenti, un grosso in bocca al lupo, ma la stagione non è finita, adesso abbiamo domenica un bellissimo impegno e siamo carichissimi per affrontare questa partita.